ciao a tutti appassionati di anime manga sono alex come sempre vi iscrivetevi qui sul mio canale youtube o su instagram il link lo trovate come sempre qui sotto in descrizione ora andrò a parlare di cosa ne penso di goblin slayer ora vi mostro copertina 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 e 8 allora che dire un manga molto crudo violento parla di questa persona che non si è mai visto il volto quindi non si sa se sempre visto in armatura che sconfige giusto come dice il titolo i goblin lui vuole solo ammazzare i goblin è un avventuriero di grado argento quindi anche molto forte potrebbe ammazzare altre creature ma lui vuole solo ammazzare i goblin perché ha una storia quando era piccolo che i goblin hanno fatto del male alla sua famiglia quindi c'è la morte con i goblin e vuole sterminare goblin goblin su goblin su goblin durante l'avventura non incontra solo goblin incontra anche altre creature soprattutto il primo è molto violento crudo forte sembra quasi il nuovo berserk vi disturbi da parte di goblin sangue morte violenza però davvero un po incomincia a calare la violenza nel proseguire dal manga non è meno crudo che preferivo come era all'inizio mi non mi un manga così comunque dopo berserk ci vuole non può essere solo perché per essere a portare quella crudità quella violenza perché è quella cosa non è perché è bella essere un ente però e poi per staccare rispetto agli altri anime altri manga di genere fantasy comunque di genere fantasy è molto bello alla fine ci sono scene che non posso farvi vedere molto alcune scene che si può far vedere i disegni molto ben fatti curati soprattutto le scene di lotta sono ben fatte allora non aveva trama parla alla fine di questo qui che sconfiggi goblin su goblin e basta per adesso non c'è una vera propria trama incontrate avventurieri la prima è che una sacerdotessa poi è al finali altre creature che seguiranno il suo viaggio allora è un seinen a me sta a me è piaciuto soprattutto l'anime il primo primo mi sono approcciato con l'anime a questo manga che è il suo video e soprattutto il primo episodio che è molto crudo e violento mi è piaciuto quindi ho voluto acquistare anche il manga allora il manga sta andando un po' a rilento diciamo che comunque essendo fino adesso solo otto volumi o no può uscire tra poco uscire al nove è fattibile come spesa si può comprare se vi piace il genere fantasy dark fantasy crudo quelle cose però avviso è crudo prendetelo a me è piaciuto io vi ringrazio come sempre se il video vi è piaciuto invito a mettere un like e seguimi qui su instagram attivate la campanellina per non perdere i miei video io vi ringrazio grazie